Abbiamo presentato oggi il progetto cosiddetto baratto amministrativo. È stato approvato dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. Il regolamento è a disposizione sia presso gli uffici comunali che sul sito del Comune. È indirizzato a quei contribuenti che avendo tasse e imposte comunali, i mutasi, tari, sanzioni del codice della strada, che non sono riusciti a pagare entro il 31-12 dell'anno precedente, per regolarizzare la loro posizione possono presentare un progetto agli uffici comunali, specificatamente all'ufficio tributi al secondo piano, un progetto redatto su una domanda che possono reperire presso i medesimi uffici, in cui si rendono disponibili a collaborare col Comune per o la pulizia delle strade, o la pulizia dei parchi, giochi per i bambini, o lo sfalcio dell'erba nelle aiuole. Ecco, tutte attività di natura semplice che possono fare. Questo loro intervento viene valutato a euro 7,5 all'ora e va a compensare per il totale delle ore che potranno prestare all'amministrazione comunale, va a compensare le eventuali imposte e tasse che nell'anno precedente non sono riusciti a pagare. Per partecipare a questo progetto, come vedranno sulla domanda, bisognerà avere un ISEE inferiore a 8.000 euro, si dovrà avere delle condizioni all'ora familiare particolari e si dovrà essere in una condizione particolare per poter partecipare. Bisogna dire quindi che non tutti possono fare questo, ma solamente coloro che si trovano in certe condizioni e che le potranno vedere nei documenti che il Comune renderà noto. La scadenza per il 2014 è il 30 novembre 2015, quindi devono presentare questo progetto entro il 30 novembre 2015. Per tutti gli altri anni, quindi a partire dall'anno prossimo, entro il 30 aprile di ogni anno.